buongiorno amici e amici bentornati a suona la sveglia inizia il make up oggi una fascetta skin care un po natalizia e anche il nostro bigliettino il nostro messaggio di oggi è un po pieno di sogni come fossimo già un po orientati anche verso il natale a natale si sa si è sempre tutti un po più buoni e si hanno dei pensieri molto positivi infatti il nostro pensiero oggi è la speranza bisognerebbe sempre sperare sperare che ci sia ancora un domani sperare in un futuro migliore sperare che le cose vadano sempre per il verso giusto da un punto di vista soprattutto della salute e da un punto di vista della serenità perché la serenità dovrebbe essere secondo me al primo posto nel nostro diciamo obiettivo l'obiettivo di tutta la nostra vita dovrebbe essere quello di vivere in serenità in armonia con tutte le persone che ci circondano ma anche con l'ambiente io penso che è indispensabile la serenità è probabilmente quello che ci fa stare bene e quindi la serenità è sicuramente legata tantissimo anche alla salute quindi secondo me è importantissimo cercare di trovare la nostra realizzazione personale soprattutto dal punto di vista della serenità ammoragini pini brufolini e le occhiaie da pandina oggi le contrastiamo con questi bellissimi fondotinta poi ritorneremo all'argomento di oggi il fondotinta che stiamo provando oggi è di revlon color stay light cover foundation garantisce un 12 ore di durata diciamo della base la colorazione che stiamo provando è quella diciamo intermedia la 220 natural beige e la stiamo fissando con la cipria di bella oggi la fix me bb powder la combo blush di oggi invece la otteniamo con il blush un blush di kiko molto carino che avevamo trovato l'anno scorso nel calendario dell'avvento di kiko e con l'illuminante di mega glow highlighter powder in colorazione ze 321 b precius petals molto molto bello il prodotto lip care che abbiamo appena utilizzato invece è di kiko ed è il lip balm che utilizziamo in combo col volume boost di bella oggi ma strega comanda color oggi tutti i colori un po' biscottini dedicati diciamo ispirati dall'omino pan di zenzero amico di shrek mi piace tantissimo l'omino pan di zenzero è super simpatico super cute molto carino e quindi ho deciso di dedicargli questo make up che anche diciamo un make up già un pochino nei toni un po' natalizi perché applicheremo anche oltre a questo bellissimo marroncino scuro e il marroncino chiaro applicheremo adesso col polpastrello anche un pochino di dorato ma prima sporchiamo un po' la codina esterna dell'occhio con un po' di mattitina nera e vado sopra con un po' di marroncino per dargli un po' di intensità perché sennò questo marrone era veramente troppo chiaro per me io amo che si veda la codina all'esterno dell'occhio abbiamo applicato il dorato dall'angolo interno dell'occhio l'abbiamo sfumato verso metà palpebra devo dire che è quel tocco allegro che mi piace mi piace proprio questo tocco di luce che andiamo a sfumare dall'angolo interno verso metà palpebra devo dire che il make up di oggi è stato veramente molto veloce e voi vi chiederete il perché perché mi sono svegliata molto in ritardo quindi avevo veramente poco tempo e ho dovuto fare tutto super velocemente in tre secondi questo bellissimo mascara è di essence e devo dire che fa delle ciglia veramente pazzesche è il false lashes ed è veramente molto carino dopo rimuoverò piano piano un po' di mi sono sporcata con un po' di mascara vicino alla guancia la matita che sto applicando è molto carina e di max fatto nella 0 23 brown in bold che mi piace tantissimo invece questo è un lip gloss di willy wonk e la fabbrica di cioccolato di revolution è molto molto carina questa combo la trovo confortevole fatemi sapere soprattutto come vi sentite se siete già un po in mood natalizio e se questo make up vi piace io mi sono divertita tanto qua con voi vi mando come sempre un bacione grande 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 ci vediamo nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti mi raccomando fate le brave e i bravi a dopo e soprattutto abbiate sempre cura di voi